La chiesa di Santa Maria assunta presso la frazione Rocca di Mezzo, ha una struttura architettonica piuttosto semplice, con un'unica navata e volte a botte il soffitto è affrescato nella parte dell'altare su cui pende un grande crocifisso ligneo. Molte sono le statue all'interno della chiesa, come quella del Sacro Cuore di Gesù, la statua di San Giuseppe con bambino, la statua di San Gaetano e quella della Vergine Maria, a cui gli abitanti di Rocca di Mezzo, sono molto devoti.